Quest'oggi Luciano Rabottini è il padrone di casa per questo accordo con la Pescara Calcio nella fornitura di mountain bike che saranno molto utili per la Pescara Calcio nel corso del ritiro precampionato. Sì, con piacere abbiamo fatto questo accordo commerciale che possa far piacere sia alla Pescara Calcio ma soprattutto al mio punto vendita qui a Marina di Città Sant'Angelo. Questo è un accordo che nasce con la Scott Italia, anche la Scott ha sposato alla grande questa iniziativa perché giustamente crede in questa società di calcio e soprattutto io che sono locale perché no dare biciclette a ragazzi e a preparatori che verranno utilizzati soprattutto nel periodo della preparazione. Gaston Brugman, abbiamo scoperto una nuova vena sportiva per quanto ti riguarda? Sì, sì, stiamo qua provando le biciclette, veramente non sono abituato ad andare in bici ma è una bella cosa. Poi magari vi aiuterà per lo svolgimento del vostro ritiro? Sì, sicuramente, sicuramente serve. La gente che lo fa dice che è una passione che la prima volta che sali poi diventi amato dalle bici. Senti, ma quando finirei di giocare a calcio ti dedicherai al ciclismo? Ti abbiamo sentito prima? No, no, ho provato una volta, quando ero infortunato, a fare la bici di strada e mi è piaciuto perché vedi un po' tutto il paesaggio, diciamo che è una bella cosa e anche fai sport che è importante per la vita. Quando si inizia a faticare, quindi a lavorare come nel caso tuo, nel caso dei tuoi compagni si dice che si inizia a pedalare, è proprio il caso di dirlo? È infatti quello, c'è stato iniziato il ritiro, siamo contenti, stiamo facendo bene nonostante sia due giorni di corsa, di fatica, stiamo preparando bene. Il clima com'è? Va bene, fa caldo adesso. Baby Pilon, quando si dice che si inizia a pedalare, è qui in tutti i sensi, no? Direi proprio di sì, le miglior biciclette penso di Pescara e anche d'Italia forse, perciò è una cosa in continua evoluzione, anche la bicicletta elettrica che è una novità, insomma l'ho provata, posso correre in bicicletta anch'io. L'abbiamo vista sfrecciare, no? Sì, sì, è divertente, però è uno sport molto faticoso, perciò con una bicicletta elettrica tutti possono ambire e andare in bicicletta. Senta, come sfrutterete il mezzo della bicicletta nel corso del ritiro, penso a Palena? Soprattutto per chi ha problemi ai ginocchi, che deve rinforzare il muscolo, il quadricipile, la bicicletta potrebbe essere un lavoro interessante, specialmente in salita. Il clima com'è in questi primi giorni di ritiro? Direi ottimo, si lavora bene, i ragazzi lavorano benissimo, tutti sono concentrati, c'è un bel ambiente che è l'aspetto più positivo.